Dopo il presunto tradimento Vanda Nara e Mauro Icardi stanno di nuovo insieme, è stato il noto calciatore a confermare la riconciliazione sui social. È tornato presto il sereno tra Vanda Nara e Mauro Icardi, negli ultimi due giorni non si è fatto che parlare della loro improvvisa rottura, i due sono però tornati insieme. A rivelare a tutti che la loro storia d'amore era giunta al capolinea era stata proprio la showgirl tramite le sue Instagram stories, lasciando chiaramente intendere che lui l'aveva tradita. Dopo aver rimosso tutte le loro foto di coppia aveva anche smesso di seguirlo. Stando ai rumors la rottura sarebbe avvenuta a causa di Eugenia Suarez, il noto attaccante del PSG avrebbe infatti tradito la moglie con lei. La notizia della fine della loro storia d'amore è arrivata come un fulmine a ciel sereno, i fan della coppia erano increduli ma possono stare tranquilli perché Vanda Nara e Mauro Icardi si sono presto riconciliati. Nelle scorse ore è stato lui a confermare il ritorno di fiamma. Tramite un post pubblicato su Instagram e alcune stories Mauro Icardi si è infatti mostrato insieme a Vanda Nara, ha anche aggiunto dei cuori rossi. Nelle foto sembrano più complici e innamorati che mai, la rottura è già un ricordo lontano. Ma cosa è successo davvero tra loro? La rottura c'è stata davvero? A molti la cosa non convince, pensano che se il tradimento ci fosse stato davvero i due non sarebbero tornati insieme così velocemente. C'è chi pensa che abbiano organizzato tutto per far parlare di loro e aumentare la loro visibilità, ottenendo magari qualche copertina. C'è poi un'altra ipotesi che in moltissimi stanno condividendo, di che si tratta? Sui social tantissimi utenti si sono detti convinti che dietro ci siano le iene, pensano infatti che si sia trattato solo di uno scherzo. Sarà davvero così? Questo non possiamo ancora saperlo, si attendendo nuovi dettagli per saperne di più. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. La prima cosa non è la mia gente che però es sapere a tutti. La prima cosa non è la mia gente che si tratta di più. Grazie a tutti.